Salve a tutti cari telespettatori di Opinione di Luzio, siamo qua con il nostro protagonista che è un po' che non fa dei video e quindi siamo appunto qui per chiedergli quali sono i suoi progetti per questo turno inverno e cosa vorrà fare sul canale nei prossimi video. Passo subito la parola al nostro caro Luzio che ci dirà appunto che cosa vuole fare. Allora Luzio, è un po' che non fai più dei video, no? Benvenuti su Opinione di Luzio Shou. Cosa ci puoi dire? Diciamo che come è ben illustrato in questo momento il mio carissimo Andrea, siamo per l'apertura invernale logicamente, noi l'apertura invernale qui srotoliamo i chilometri del nostro scotex come il cucciolo che camminava con i suoi piedi di fata e si srotolava all'infinito questo rotolo, non so se questo è all'infinito perché in teoria è della scotex, però hanno più la fox lady, ma io mi distraggo sempre, non lo sapete gli spettatori in questo, mi distraggo sempre e naturalmente abbiamo anche potuto scendere per lo scotex uso. cosa vi voglio dire ragazzi, io qui come magari hai accennato tu l'apertura è che naturalmente quando il rotolo finisce, finisce anche questo mio sketch, questo mio video di oggi, quindi cercherò di essere breve, ma se la carta è scotex non sarà breve, però affidatevi, abbiate fiducia ragazzi, cosa vi voglio dire, cercate di argomentare, voglio vivere i commenti, vi voglio portarvi anche nuove notizie, nuove idee per raggiungere nuovi programmi e nuovi spunti creativi in cui l'opinione di Luzio vi può dare la risposta giusta per ogni vostro dilemma, per ogni vostro dubbio. Vedete la carta non finisce mai, addirittura si è riavrotta se stessa a vedere, molti uso, non mi era accorto, pareva finita e invece è ritornata sul rotolo, queste sono le immagini dell'opinione di Luzio Show naturalmente, la sigaretta invece si finisce purtroppo, quella non c'è da fare, non c'è da fare, il telefono non squilla comunque adesso vedremo cosa possiamo fare, è un problema anche quello, e che vi posso dire ragazzi, argomentate, 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 siete sempre vivi sul mio canale perché vi voglio bene, molto molto bene, voglio molto molto bene, naturalmente il mio cano Tommy X vi voglio bene che avessi meno in giro in Italia perché io vedo che naturalmente va molto in giro e magari non mi viene a trovare e questo mi dispiace, la mia carta di genita ancora non è finita, Tommy X non si dispiace, Luca Marini ve l'ha pagato naturalmente, c'è chi mi chiama ma io non rispondo perché non rispondo, lei lo sappiate, e quello che vi voglio dire allora, Tommy X gira tutte le regioni, si va anche Perugia con Seraphino Massoni, ma tanto i suoi visualizzazioni sono sempre le stesse, mi dispiace, sono brutti dolori per la vita e anche per la prostata, e che cosa posso dire, Luca Marini avrà i suoi 50 euro, ragazzi se non aspettavate quella notizia, soprattutto Luca Marini forse guarderà un studio, i 50 euro del video magari, precisa no no no, i doveri, i doveri, i doveri, i doveri, perché non erano veri quelli del video, appena riscolto l'assegno del sussidio io do a lui, dai, vabbè vabbè, io avrei dato quelli del video, no no no, quelli del video no perché li tengo lì perché ci ho fatto il quadro perché è molto importante, allora vogliamo dirle questa cosa qui però, che nel video i soldi sono un facsimile, sono un facsimile, non se ne è accorto nessuno, abbiamo stampati con il computer, vabbè siamo un po' dei burloni, però io li doveri a Luca Marini, quindi stia tranquillo insomma, il canale di Luzio non fa truffe insomma, è corretto eccetera, ascolta Luzio scusa se ti riporto un attimino, allora, hai suggerito ai tuoi telespettatori di suggerire appunto nuovi video, speriamo che arriveranno commenti belli e brutti anche da Tom Hicks, accettiamo tutto, ma lei si sta spiegando perché non finisce mai il rotolo del video, no, volevo chiederti qual è il motivo di questa, credo che sarà un dubbio, è il nuovo prodotto che hanno fatto, tutti, quindi cos'è lo sponsor del video di questa puntata, si 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 rotola, si si rotola, si si rotola, si si rotola all'infinito, è una cosa magnifica, perfetto, vuoi dare almeno il titolo di uno dei prossimi video che farai, se questo è lo sponsor, è il testimonio di oggi, se no non mangio io, bene, bene, lo scotex mi ha pagato naturalmente, l'arvole pure indietro, non so se ha rotolato o no, adesso non lo so, sta attento che non tocchi la sigaretta e lo sponsor, se no, secondo me, ti bruci lo sponsor, e ascolta, ci puoi dare almeno l'idea di un titolo, di un prossimo video che farai? Sì, naturalmente il prossimo titolo, del prossimo video, quando avrò finito di recitare per il giovane favoloso, perché naturalmente ho pieno di rinunzione, dove poteva recitare, nel giovane favoloso, con il grandelio Germano e il regista Mario Martonelli, giusto? Sì, avrete anche lì la prova delle foto, che naturalmente noi avremo, sarà in televisione l'anno prossimo, non sarà al cinema l'anno prossimo, si parla che lo vogliamo portare a Cannes, ma forse ci accontenteremo di Venezia, dillo bene il titolo del film, il giovane favoloso, di cui tu sei un figurante, un piccolo ruolo, se non sei Leopardi, quindi, no, no, vabbè, vabbè, volevo fare Silvia, va bene, la barba, va bene, e il video che ci vuoi dire che farai, invece, prossimamente? Questo, del giovane favoloso, ah, parlerai di questo, va bene, allora, però naturalmente quello che era l'apertura, che cos'è, la carta è finita, allora, l'apertura vi ho detto, argomentate, argomentate, commentate, commentate, idee su cosa volete che Opinione di Luzio vi dia la risposta giusta per ogni vostro problema e vostro dubbio, naturalmente, Opinione di Luzio sia, via, via, via.